Mobilità sostenibile. Dopo il successo dello scorso anno, torna Ecologica, evento organizzato da Espansione TV, un laboratorio di idee e di esperienze. L'appuntamento è per sabato 6 maggio nella sede dell'emittente in via Sant'Abbondio. La giornata sarà divisa in due momenti principali. Al mattino, Spazio Ecologica Focus, un momento di approfondimento e confronto con accademici, divulgatori, manager e addetti ai lavori. Interverranno Gian Piero Mastinu, professore di costruzione di veicoli al Politecnico di Milano, Paolo Corasson, meteorologo e divulgatore scientifico, Edoardo Croci, presidente Italia Nostra, Mauro Tedeschini, giornalista, cofondatore di Vai Elettrico, Marco Grana, responsabile tecnico Team Sic 58, squadra corse, impegnato anche nel Mondiale di Moto E, Luca Forte, board member di Eldor Corporation, il giornalista sportivo Umberto Zapelloni, Guido Martinelli, presidente di SF Autoline e ancora il presidente della Camera di Commercio di Como Elecco, Marco Galimberti. Parteciperanno al dibattito tramite figure di riferimento anche a 5SPA e la Fondazione Alessandro Volta. Il convegno, moderato dalla conduttrice televisiva ed esperta di ecologia Tessa Gelisio, è patrocinato da Politecnico di Milano, Camera di Commercio Como Lecco, provincia di Como. Al termine del dibattito, dopo un light launch offerto a tutti i presenti, gli spazi di espansione TV cambieranno assetto per ospitare la seconda iniziativa della giornata, Ecologica Experience. Nell'auditorium i più piccoli potranno imparare divertendosi il concetto di sostenibilità, giocando con semi e argilla nel laboratorio allestito dalla Fornace Fusari, un'attività riservata ai bambini dai 2 ai 12 anni, con ingresso libero e gratuito, con un simpatico omaggio per tutti i partecipanti. Mamma e papà intanto avranno la possibilità di testare le migliori auto elettriche e ibride presenti sul mercato, che saranno a disposizione per test drive con partenza dal piazzale esterno di espansione TV. Tutte le iniziative di Ecologica Focus ed Experience sono gratuite e aperte al pubblico. Appuntamento sabato 6 maggio a partire dalle 9.30 nella sede di espansione TV in via Sant'Ambondio 4 a Como. Appuntamento sabato 6 maggio a partire dalle 9.30 nella sede di espansione TV in via Sant'Ambondio 4 a Como. Appuntamento sabato 6 maggio a partire dalle 9.30 nella sede di espansione TV in via Sant'Ambondio 4 a Como.